Gocce d'acqua è un'espressione di un progetto un po' più ampio, campagna bellezza del creato, è un progetto che fondamentalmente racconta il buono e il bello della nostra regione. Allora abbiamo raccolto una serie di immagini che documentassero la bellezza delle acque all'interno del nostro territorio e l'arte ci ha aiutato meglio a rappresentarla. Gocce d'acqua, questa installazione artistica, è nient'altro che il racconto che tanti ragazzi degli istituti d'arte, tanti artisti hanno fatto. Ci è sembrato assolutamente opportuno cogliere questa possibilità dataci dal maestro tagliano di dare un contributo a questa iniziativa perché è un po' la sintesi questa iniziativa di una serie di cose nelle quali noi crediamo fortemente. Credo che si debba investire molto sul nostro territorio, sulle bellezze del nostro territorio e sulle opportunità che il nostro territorio ci dà, cominciando proprio dall'acqua e credo si debba investire nella creazione di una educazione, di un'attenzione, di una cultura su un bene primario come quello dell'acqua. Grazie